Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo series of Wons Channel, oggi vi volevo far vedere cosa è successo nelle claim battle tra me e Android2Player che è anche qui con noi, saluta noi, saluta, allora, stiamo giocando tranquillamente questa challenge bello, no? questa pattina che poi abbiamo aperto, che abbiamo aperto, che abbiamo aperto ma, qui, la tecnica di vaccinico è il mio di noi, non è che facciamo tutto l'alto del vostro, tutti voi tecnici di pesa e io faccio il testo d'attacco, ora da da noi, ho fatto il colore a mozzi, proprio a loro che ti ripetendo questa tecnica del barile, abbiamo provato a farla, abbiamo reprise, Siamo per volentare un attacco su un gol spie nel mattino, vedete cosa succede a voi? Allora, adesso guardate, guarda il boia, guarda il boia che ha fatto, lui aveva messo il doppio tornado, non so, adesso ve lo faccio rivedere meglio ragazzi, sicuramente, un bug davvero davvero strano, ragazzi, se ne mettiamo la partita, così vediamo meglio il nostro carissimo bug, Vabbè, intanto qui vediamo la propizia del nostro avversario che mette, diciamo, la tornado al domotore per far l'attacco al domotore centrale invece della torre, guardate, allora, io piazzo il boia con lo specchio, adesso tra poco metterò, eccolo qui, il boia, adesso il nostro avversario starà preparando la tornado, ecco qui ragazzi, questo è il nostro boia, guardate dove sta andando il boia, Il boia sta andando tutta da un'altra parte a sinistra, il boia sta andando di nuovo a destra, mette un'altra tornata per farlo andare a sinistra, si gira prima a sinistra e poi va a destra, poi si gira a sinistra e poi guarda avanti a destra e va a destra, cioè ragazzi, Una con un bug molto amico, non si capisce niente, è davvero una cosa incredibile, cioè, poi vabbè la partita, abbiamo persa, Sanno devastato, poi vabbè la partita, poi loro, il bello è che noi la partita l'abbiamo persa, che gli avversari hanno fatto la nostra stessa tattica nostra, La tecnica del barile, con la colonazione, lo specchio, la furia, cioè hanno usato la nostra tattica, la tecnica del barile goblin, noi non ci siamo riusciti, Noi non potremmo neanche difenderci bene, perché io avevo il deck d'attacco e lui quello solo di difesa, ma in quel momento non avevo una zap, non sarebbe passata comunque la zap, Vabbè ragazzi, per me il video può finire qui, se vi è piaciuto lasciate like, Mini video! Eh, il video! Mini video! Vabbè, mini video, vabbè! Giusto per spiegare questo bug? Mi raccomando ragazzi, lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video! Ciao ragazzi!